Buongiorno, sono Sabino Galante e sono il vostro docente di fondamenti di base di pittura d'olio. Allora, vi racconto un attimo di che cosa tratteremo quest'anno. Allora, innanzitutto il corso avrà una parte teorica in cui verrà insegnata, diciamo, la teoria del colore. Quindi faremo riferimento alla teoria del colore di Chevrolet, che è stato un chimico di fine ottocento, e una teoria del colore sulla quale si basa, diciamo, tutta la pittura di fine ottocento, da fine ottocento in poi, la pittura contemporanea. Quindi faremo riferimento a questa teoria, poi parleremo anche di colori primari, secondari, terziari. Insomma, in qualche maniera diamo le basi di quella che è la pittura classica d'olio. Poi andremo a sperimentare questa teoria andando a dipingere dei paesaggi. Quindi in questo corso è prevista la pittura del paesaggio. Partiremo dalla copia di dipinti già realizzati, ovviamente, di grandi maestri, che sono paesaggi della fine dell'ottocento piemontese. Quindi parliamo essenzialmente di Lorenzo Delleani, che è stato un mio avo dal punto di vista della pittura. E poi ci sposteremo anche su altri tipi di paesaggi. Toccheremo il paesaggio macchiaiolo piuttosto che quello, insomma, dell'impressionismo francese. Quindi tutto questo ci darà modo di mettere in pratica quelle che sono state la teoria che abbiamo visto nella prima parte del corso. Ok? Quindi il corso è prevalentemente, diciamo, di lavoro, di pittura. La parte teorica verrà sviluppata un po' all'inizio e poi durante tutto il corso. Quindi io spero di vedervi numerosi. Ci divertiremo molto, come è stato anche negli anni passati. Ci vediamo a metà ottobre per l'inizio dei corsi. Grazie a tutti!